Io sono seduto su una panchina tranquillamente e tra poco questa erba mi avvolgerà tutto. Quindi chi ha sfalciato l'erba si è dimenticato di seguire tutte le panchine che abbiamo, i percorsi, i marciapiedi e ci ha lasciato, purtroppo, in queste condizioni. Qualche settimana fa la situazione dell'erba in quartiere Pertini era questa. Ora non è più alta due metri, ma di lavoro da fare ce n'è ancora molto. Sono partiti molto tardi, c'è stata la difficoltà del cambio di ditta da una parte all'altra, dall'altra dobbiamo ammettere che c'è stata una stagione che ha piovuto parecchio, dall'altra ancora però la ditta che ha preso i lavori non è che ci ha messo molto a intervenire, anzi se la sono presa abbondantemente con calma. Ma se il problema dell'erba non bastasse, Rocelli segnala un altro intervento che andrebbe effettuato nell'immediato. Abbiamo il problema anche del bosco, abbiamo scritto all'Associazione Grandi Parchi, al sindaco, abbiamo delle panchine che ormai si stanno sbriciolando, il comitato di quartiere sta prevedendo a tempi ravvicinati una giornata ecologica. Consisterà in che cosa? Consisterà nell'intervento all'interno del bosco per cercare di delimitare le zone pericolose e nelle panchine mettere un po' di vernice, raschiarle, renderle utili comunque ai nostri anziani che passeggiano su questo bosco meraviglioso che vogliamo mantenere.